Non esiste nessun file della mia webcam E peccato perché questo è stato un episodio incredibile ragazzi Però mi sono appena accorto che non c'è la mia webcam Meno male che registro anche l'audio in quel file Vabbè Ragazzi comunque ben ritrovati nel canale e bentornati su un nuovissimo video Purtroppo come avete visto dall'intro non ci sarà la mia webcam in questo episodio Perché non l'ho registrata Cioè in realtà pensavo di averla registrata ma non si è salvata Non so cosa è successo ragazzi Pazienza insomma Oggi è stata una live bellissima Ok ieri Ieri è stata una live bellissima con lo sconosciuto e folli Probabilmente sono in live ancora in questo momento sul mio canale Twitch GabboDSQ Che trovate in descrizione Volevo annunciarvi ragazzi che il 3 settembre alle ore 14 Attenzione aprite bene le orecchie Alle ore 14 inizieremo un nuovo let's play Il nome del gioco è The Casting of Frank Stone È un gioco stile Until Dawn Horror Ragazzi sarà veramente qualcosa di incredibile Gli sviluppatori sono gli stessi Quindi ci sarà davvero da divertirsi Il problema è che non so proprio come gestire GTA V Mi auguro di averlo già finito ragazzi Però stiamo parlando fra 5 giorni Non credo sinceramente Perché non purtroppo Ma quel titolo lì ragazzi Occorre almeno 2 video al giorno Quindi probabilmente GTA V lo slitteremo Visto che faremo 14 18 The Casting of Frank Stone GTA V lo slitteremo alle 16 E se non riesco ragazzi Una volta finito il gioco The Casting of Frank Stone Continuiamo GTA Ragazzi purtroppo non posso sdoppiarmi Non posso fare 3 video al giorno Vedremo ragazzi Per il momento io però rimango con l'episodio fisso Giornaliero alle 14 di GTA V E poi magari in questi giorni Cercherò magari di spingere un po' E farne due al giorno Quindi rimanete aggiornati su Instagram E ovviamente mettervi la campanellina Perché alle 18 Probabilmente che oggi no Però domani forse usciranno due episodi Oggi ho già registrato ragazzi È un episodio davvero incredibile Non perdetevelo perché è stupendo Fidatevi di me C'è un grande risvolto nella storia E niente vi lascio al me del passato Nel gioco ragazzi Purtroppo senza camera Mi dispiace Mi dispiace davvero tanto Ci succederà più Lo prometto Ok boys Allora Io Oh merda piove Franklin Dobbiamo andare da Andiamo da Trevor Che ha il vanilla raga E ha il vanilla Quindi dobbiamo raggiungere Il vanilla Da Trevor Perché Trevor lo scorso episodio ragazzi Ha fatto dei casini enormi Entra entra che piove Scappa scappa Ma è qui Trevor no? Sì c'è ancora Wade Raga ho comprato davvero il locale Io ho paura Aiuto Eccoci Preparazione al grande colpo Eh Eh? Frank li ha già capito tutto. The big one. The big one. The big one. The big one. The union depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. Se riesco ve lo metto tutto in sto video raga Ma non so come funziona Ah questo è il vecchio proprietario Ora 12.01 Abbiamo tempi stretti Leggete voi raga eh ve lo lascio Cazzo scusate Eh scusate boys Raggiungiamo la pista all'atterraggio E qua invece dobbiamo raggiungere la banca È sopra vero? Cavolo Ecco la Union Depository Ok guardiamo il retro Ma raga sarà una manata sta missione Sarà una manata e non vedo l'ora Sicuramente Franklin è più maturo eh Che schifo Ah bene Mi piace il fatto che ci sia l'ora in bassa destra Chissà cosa vuol dire Ma te ma Ho dovuto fermare rapisciato Far uscire Brad dal gabbio Merda raga Merda raga quando lo scoprirà si incazzerà tantissimo Trevor Madonna pensa che Brad sia ancora vivo Noi ora abbiamo un'elicottero ragazzi Saliamo Lester vieni Seguiamo questo convoglio Mi sa che noi dovremmo Cioè dovremmo rubare quei due furgoni lì raga L'abbiamo seguito fino a qua raga E li attaccheremo sotto al ponte Sotto al Pontos Minchia sembra il logo di Rainbow Six Ok torniamo con Michael Abbiamo tutto quello che ci serve Dobbiamo portare Franklin a casa Raga la parte di pianificazione del piano Questa missione qua è stata un po' una palla Vi dico la verità eh La preparazione a grande colpo È stata un po' una mezza palla raga Sono sincero C'è solo qualche pezzo importante Adesso andiamo direttamente a casa di Michael E vediamo qua che cosa c'è come missione va E lì rilascia di guerra Vai Alla prossima Alla prossima Alla prossima è la missione, ragazzi è la missione, ragazzi noi siamo come in America moderna noi solo abbiamo un amico amico BAM! Non, non è questo ho ho il pieno, ma che ti rende io voglio fare film è bello, è bello e dove è andato a me in questo secondo atto di tua vita? Siamo fare l'ultimo lavoro e poi siamo riusciti un paure questo non è un gioco per me questo è un modo di vivere ho una famiglia io non ho nulla! nessuno ha un po' di me io io ho oh f*** tu io vedo il tuo pezzo io ti scusci e poi si tratta che tutto ciò che ho pensato di te è vero tutto ciò tu non è morto e tu non è un uomo tu non è morto io sono il tuo f***o il tuo f***o il tuo f***o hanno il bisticciato raga io voglio solo chiederti qualcosa qualcosa che ho pensato su su a esattamente chi era in tuo posto non ho mai pensato non ho mai pensato sai cosa ho pensato? non ho mai capito tu troppo tu è morto tu è morto tu è morto oh f***o trevor hey chi che casino la mia macchina merda raga trevor chiederti non ho mai capito non ho mai capito oh non ho mai capito tu non hai bisogno per andare all'estate a potremmo cosa posso dire vamos pizzer tu pizzer tutto ciò è Mamma mia, raga, è incazzato Oh, no, no, è chiaro E la ragazza di pensi, finalmente Stavano nel nord-nest Raga, ma stanno a disseppelire la tomba Raga, ma è mi... Cioè, è assatanato Ma che spettacolo, Trevor, raga Best personaggio, davvero Dave... oh, cavolo Ha usato la testa He's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions Shit, then what? Then who fucking knows what? I don't know, I'm gonna go see if I can reason with it But I come, but I, I, I... Yeah, don't worry about it, it's between me and him Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list That's good to know Merda, raga Aggiungi il regresso del termino al primo piano, raga Via il fucile Dobbiamo andare a Ludendorff Cazzo, questa missione è paurosa, raga Sai come penso io Ma? Che sono sti cinesi? Di nuovo, raggiungi il cimitero di Ludendorff Vuoi vedere la mappa com'è qua? Ah, non me la fa vedere È giga enorme Non c'è un modo per esplorarla tutta, raga, sto posto Senti, Amanda We're going to move to Los Santos Start over I made a deal The slate Will be totally wiped clean Trust me, darling Look at me, Amanda It was the only thing I could do Either everyone dies Or one guy gets out I'm that guy His name is Dave Norton, nice guy Realist He gets the glory I get out It's not even a decision Amanda, I don't have a choice Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live Work this out Guarda che figata sta missione, raga Sarà anche bella tosta Emotivamente You don't need to know Trust me Nothing is going to go wrong Nothing Yeah, I hear you We've got to follow the blast Everything will work out I did the deal, Amanda It's over Baby We get out Be happy Be normal Michael voleva solamente togliersi dal giro E gogersi da famiglia E ha sfanculato i suoi amici Ci siamo ragazzi Ci siamo Raggiungi la tua tomba Che figata sto posto, raga Non dobbiamo immaginare Lui come sta a ritornare in sto posto qui Le mie armi mi sono state sostratte Quando sono salito a bordo dell'aereo Certamente Io la mia la tiro fuori Porco due raga C'è già Trevor qui Che schiava Che schiava Hey, tu stai spostando il tuo tempo Is that why you flew out here? Huh? Dice me che stai spostando il mio tempo? Go ahead Digga'la I don't give a shit That's what you look like The guy who doesn't give a shit? That's ridiculous How long are you gonna keep lying for? Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark Comes out in the light Oh, give it a rest, Trevor There's nothing there This is it Moment of truth As if I didn't know Brad Look We do what we gotta do to survive This thing It didn't work out the way it was supposed to Oh, how was that, huh? With Brad in the can And me in the ground Or both of us in the coffin Brad got shot You saw it He didn't make it I got shot, I did That's That's it I think the only thing That didn't go as planned Was me showing up on your doorstep Ten years later Mikey I mourned you And I missed you But I got a fucking family, Trevor We were all gonna die He did die You reptilian motherfucker Oh I didn't want it to come to this Yes, you did You just don't have the fucking balls to do it But I do I got more to lose than you Never a truer word Has been spoken, brother Now Pull the fucking trigger You haven't got the guts Take the fucking shot Who is that? Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Joe and Phillips Mr. Choheiser requires an award Hey, ho, ho I'm not the guy you're looking for Hey, tell me, tell me Tell me Boyfriend Boyfriend Motherfucker What the fuck I'm not the guy I'm not the guy I'm not the guy I'm not the guy So, who are your pals, Trevor? Ah, sono amici in Trevor? Cazzo, ma allora la roba è seria, seria Proprio nemici, nemici, nemici Adesso Merda là Merda, merda Abbiamo un fucile Merda, no, 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 no Merda, no, 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 no Minchia, ma quanti sono, raga Andiamo, andiamo sull'auto, sull'auto Merda, lord Merda, non va l'auto Porca dio Ma siccome non era trebbero Guarda raga Cazzo di casino Mamma mia raga che casino Oh Ah no? Quindi raga, allora ovviamente non c'è bisogno di spiegarlo Trevor non ha mandato nessuno Loro volevano prendere Michael per minacciare Trevor Ma Michael pensa che siano gli scagnozzi di... Insomma raga, una situazione un po' così Ora bisogna vedere se... Se per il rilascio di guerra raga è stata una missione incredibile Ora con Trevor si potrebbe andare da D Che sarebbe Devin E dell'FBI E posso pensare che secondo me sarà qualcosa di molto molto piccante Avete visto che cura nel dettaglio raga? Avete visto che cura nel dettaglio la macchina di Michael era qui All'aeroporto Incredibile raga davvero Andiamo da Devin Aspetta leggiamo meglio il messaggio di Lamar Ehi pazzate vi diciamo insieme a io e Frank andiamo per quell'ultima auto per il riccone Viene anche tu? Ah Devin è per il... Ah ok ok Sì sì è per la macchina Lamar Devo andare a prendere il camion E poi ho tornato a fillare raga Eccoci qua Abbiamo tutte le auto raga in teoria Pagamento incoming no? Merda raga guardate che macchine che abbiamo qua Porco due 12 chilometri raga siamo matti Merda raga Sta dormendo Franklin ma Trevora gli ha detto alla Mar che Michael è morto Raga merda abbiamo la polizia Merda Merda Maffanculo E dimmi che non prendi i chiodi dai Niente Non li prendi Eh che cazzo Sai che gli hanno finiti sti sbirrami Oddio Perché c'era un cervo lì Bastarda Io voglio troppo Sprezzare al consulatore Pagano Pagano Io voglio troppo Pagano 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 Basta Pagano 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 Pagano